ciao a tutti e bentornati a Shin Megami Tensei Digital Davies Saga allora episodio numero uno mi ricordo più nove può essere credo di sì che episodio è questo 10 e si 26 5 6 7 8 questo è il 9 è il 9 allora è affanato mica con te lontano no ma il giro di buono l'abbiamo ancora fatto allora allora mannaggia a tutto famose profanazioni penso perché avevano iniziato a registrare questi episodi ma poi il gioco è crescato e quindi basta basta il gioco ha detto basta e nel frattempo abbiamo sparato un po di cazzate come sempre allora negherei se mentirei se vi negassi che lo stai guardato la soluzione ma effettivamente cinque punti esclamativi dovrebbero farci pensare a qualcosa vedete che c'è dei punti interattivi questo possiamo interagire e metterci le left right key io ero convinto siccome abbiamo aperto una porta pensavo che ci avessero allora ho capito la porta che non si apriva da un lato l'abbiamo aperta quando abbiamo sbloccato una porta ti ricordi ero convinto che quello sblocco fosse dato da una delle due chiavi che avevano trovato per quello ero convinto ci fosse un'altra porta da aprire e anche io ne faccia non era chiaro quelle chiave che servissero era la sinistra chiave destra ma non era alquanto chiave a quanto pare servono a sbloccare queste allora esatto a aspetta spesso il tizio in qualche episodio fa che vento lato morto c'era scritto con le manina sulla manina left is right right is left non vorremmo farlo già a destra diventa blu quindi finisca che passabile ma qui non si girano importante che si può passare sì sì certo quindi questo è girare a sinistra deve essere right ai do ok in tutto ciò non abbiamo ancora trovato quelle con gli occhi gialli e delle trappole ci siamo occupati ora dobbiamo trovare mic c'è qualcosa che non va sento dolore di fogna stiamo attenti michelino il lumachino michelino il lumachino ma c'è ancora tutto il danno quanti episodi siamo qua dentro? vento ordici cinque tipo oddio ma la struttura abbiamo già girato tutto ma tutta la struttura guarda dove stiamo andando ancora più giù guarda che veramente voglio conoscere l'architetto di questi posti che è ultra convoluted proprio for the sake of it non usare parolacce esatto qua si torna su va su quindi qui per qualche motivo non ci sono nemici non dirlo ma non ha senso capisci non dirlo prima ogni passo incontravamo il tarrasco e adesso magari ci posso devo dire che sto corrido così sì potrei dire aspetta aspetta c'è qualcuno che ha fatto su stronzo sì sì ah proprio la healer ah beh la healer mutata mi fa piacere avere la healer mutata esatto ma quando è successo? non l'ho capito sono sincero abbiamo fatto un combattimento? eh si vede nel mentre che eravamo distratti troppo velocemente le nostre quizquilie ci hanno mutati oh ola questo mi sembra il dungeon l'ultimo dungeon un po' di di cosa di cosa o lecce quello in fondo in fondo in fondo ti ricordi? ah ok si che la fine di andare in quelle grotte si si e ragazzi io prima o poi in live ve lo porto soul hackers a botte di tre ore alla volta è tutto tuo dai è bellissimo soul hackers si bello ho già dato basta capito? gioco palesemente anni 80-90 vecchio come il cucco bello ma versione 3ds è fichissimo dai si si però sai come la penso questi giochi qui subiscono per me tanto l'influenza del tempo scusa stiamo giocando a un gioco di vent'anni fa ma infatti lo dico in questo spinto che è un cazzo di gioco vecchissimo ma va però dai ma va questo è moderno per alcuni aspetti però è come no torno i due per tre insultavo dicendo che è un gioco vecchione ma infatti nottono l'ha fatto l'hd aveva un po' di cose in più cose cose meglio in elevator in caso di mi sto giocando in live un gioco c'è elevatore invece che elevator ma che bello come si diceva nel 1942 in Italia secondo me è affatto apposta perché il gioco è ambientato nel medioevo è minori lo spin off di monodora ok sembra essere la stanza di mic c'è mic jagger dentro ti immagino ti immagino se non stavo registrando vabbè che sono 5 minuti ti mandala per terra tutti fighissimi i kusa ah c'è degli i kusa così nella stanza che gli fanno compagnia ma meno male simpatici ti svegli questo qua davanti li blastiamo in un turno tutti a tre tutti a quattro con un bufula ma bufu ma come si prendono a male così sono tutti gli embryon come avevano detto mic ha giorgio totale lui bat ah bat è venuto a dircelo mic mic potrebbe aver divorato il leader dei maribel cosa? bastardo quindi non è questo ok avremmo dovuto divorarlo quando avevo avuto la possibilità i rat ha fatto la spia bat bat rat come cazzo ah lui diventa questo giunto di mangiare vabbè non è un grande demone demone ma non c'è magari sconfitti loro si si sicuro vabbè questo è un debole al vento lo sappiamo già lo stronzo ha fatto la spia senti facciamo ciao ciao quanti sono così facilmente no attacca c'è quel congelato no sono un critico non l'ho visto proprio però va bene perché se c'è lui non l'ho proprio visto oh il nostro caro turdak che sa di pezzo di me il torto no no vedi cosa è debole il turd vabbè io comincio con un mabuku e comincio a assaggiare un po' le debolezze delle resistenze mazzani mi aspettavo che sia stato furbo beh tera su di lui se vuoi e basta perché non matera boh si così puoi mangiarti gli altri che tanto sono spaventato minchia 228 puoi provare fuoco vedere se è debole fuoco lui un po' no mi ricordo l'opetitore testo vabbè quindi sarà debole buffi o zio o niente no zio forse vabbè fai una curina magari sul caro medio assaggiamo reno eh no non è ho debole alle pistole ma non lo capiremo mai si rivelò debole inizia esatto in faccia stiamo un po' ripetendo è un sempreverde grande come livello adesso ferma ferma Heath di nuovo io sono sfavorevole a Heath dobbiamo obbedire i nostri leader per legge come ha potuto seguire un leader incompetente ti fa ammazzare abbastanza in prezzo Heath e ora dovete scappare come delle fighette surf non possiamo lasciar ginana salviamo ma si certo che la salviamo blocca il dungeon non possiamo più andare nel dungeon quindi dovremo salvare per forza beh controlliamo la stanza che ormai ho imparato a guardare ogni stanza post boss parla con tutti che non si sa mai che si svegliano che hanno un lutto per noi il ginana dei maribel deve essere al front gate sbrighiamoci quindi siamo venuti qui per intrappolarli e siamo saltati dalla padella a bracci che cazzo surf non ho capito che cosa si lamenta che cazzo vuole ma lui è sempre quello un po' edgy un po' deve fare il vegeto della situazione abbiamo ammazzato i il loro cicciotto si il vice di il nick si allora che cazzo vuole però ripeto che noi come embryon siamo troppo i prescelti sera cade la troviamo noi noi siamo gli unici a quanto pare ad avere due vice e non uno solo vedi che c'è un'attività no 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 troppo lento troppo lungo bevacche è stata solo fortuna oh è andata con e non è debole al ghiaccio tra l'altro no però se lo congeli però viene congelato sempre non so come mai che figata va bene così no no sicuro non mi sto lamentando figo c'è un'altra oh no niente c'è un vendor tutte le robe grosse che abbiamo trovato potevano venderle c'è un'altra un'altra vabbè sciambola cred saying a come s Star troppo imb symptoms tripe non è vera per aumentare sì ma ne abbiamo bisogno non abbiamo sensi venute prima sì ma perché ce lo dice adesso magari da volare ai negozi o te lo dice un save large a come quindi vuol dire che c'è tutta un'altra un'altra parte di dungeon ma arrivata dobbiamo arrivare a front gate quindi secondo me si fa qua è stato giallo non ti far domande che non hanno risposto ho capito ma la sua ora su una super gassula g9 ok deve essere l'altra parte che abbiamo incontrato senza farci caso boh in anna o era un errore di traduzione non è come se la ma non ti aspettavi davvero di sconfiggermi a digiuno che cavaliere dello zodiaco time che l'uso di faccia non ha devorato nessuno sono come te non ucciderò senza bisogno invece quello che sembra va in frenzy spacca tutto cosa sembra proprio un pappone in mica beh dai sì ma no non farmi bannare dal canale dai cazzo cosa sta facendo è diventato lunar si è incazzata non calmarla adesso lei deve incazzare se ucciderlo abbiati ginana contro che gono goto chissà chi è sto gattino ma che è il calantino si chiama sera ha una giapponetizzazione di qualche cosa flashback time ma lei viene dalla terra secondo me beh palese ma sì loro senza ricordi saranno delle cose reincarnate strane ma loro sono morti sono nel limbo sicuro saranno vite passate memorie robe bloccate scappate tutti ci bombardano la base a lei la ginana che sta dando il freddo vai spaccalo ora lei ammazzare mic e poi dovevamo uccidere la noi ginana io non posso più commentare sull'effetto si è trasformata in un demone completo pare che chiunque abbia il potere finisca in quel modo prima o poi è cominciato a succedere anche alcuni dei miei uomini ma avranno un ottimo sapore quando l'ho mangiato che gli serve a direzione per essersi rivolte a colto di me divertitevi a sbrannar via vicenda e io mi popperò a tutti i soldati che quella zoccola ci ha mandato ma lasciamo che ginana si pappi lui e poi trasformati cazzo non mostrare pietà andate bene così dai si scatena su di lui ah pensavo qui forse il famoso combattimento che secondo me dobbiamo fare da umani asura usas eh prova gli elementi vediamo sembra una pianta potrebbe usare fuoco no niente ah ma non funzionerà mai con un boss bisogna minare ma calma ce lo farei una bufola quanto? 79 meglio magari la congeliamo pure ma va il boss oh no oh cacchio questo è brutto e rita abbiamo un oggetto per far dire Charlie perché non credo sarebbe un monte di usarlo ah ma c'è ma c'è via via di nuovo ok che spreca un turno però ahia 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 qui vi 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 mercy, on our side media? to be on the safe side si di tanto si eh non mi sembra niente di che comunque no, 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 per essere un boss ma che noi siamo saliti di livello di brutto perchè ma si, fagliano stronzo vabbè che finchè di mezza non è nemmeno terribilmente pericoloso no, no, certo, però di mezza, di mezza, di mezza a niente no, ok, però, cioè, siamo in tre lei da sola, voglio provare a dimezzare finché vuole fra sempre eccolo lì ah, ecco il curatore eh non mi ricordo vero credebole, boh credebole a oscurità secondo me è holy quella roba che non so ne ha mai bravissimo eh no, vabbè, rubi gli appugni lui senti, con lei continua a fare... aspetta no cosa? Tarunda così lui è obbligato a... così lui continua a fare... in realtà non sta curando esatto, ci siamo capiti che ha pochissimo questo è schifo, capisco, nemmeno tutti così lo stalli forse sempre su di lui forse e invece non cazzo eh, conviene che lo fai concentrato si eh, conviene che lo fai concentrato si danni basta basta che io gli unicorni o l'incubo no, fagli ancora runda verità runda no, mi scorcio mi scorcio ok ho due ho l'incubo degli unicorni che curano quindi per quello che ho paura forse conviene che li prendi a pizza in faccia o ho magia singola perchè è più concentrato e... non c'è non c'è non c'è non c'è ok, va bene non c'è per il gruppo uno di loro venga stumato, vero? eh quello che speravo, ma proviamo va, va però abbiamo scoperto che è rossa già beh, era ora vediamo un po' che la stiamo minando non tanto eh cioè guarda che i boss i nostri sono molto più grossi per concentrarci sull'attacco per un turno secondo me da CharlieDew due enemy combo? il cazzo vuoi... mazzo combo? quella ma... donna mica che culo che eravamo full vedi in media sempre comunque tenersi full sempre si oh via una ma come o no la puoi rifare? poi farà con l'altra no 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 l'ho fatto in... ah cazzo eh sono... sono uguali sono due no ma pensavo avessero fatto in tre eh ah non lo so non ho capito a me fareva più di farò forse no vai vai fai body rush ma donna che... che pelo con l'appacco lì è si ma sempre su serve eh si vede che magari è l'unico cioè quello che prende di più non so ma donna mia c'era dai ah gli avessi passato anche non sai più non si sa mai no vabbè adesso non si sa mai e poi lo vedo dai no vabbè dai io farei i pugni concentrati perché tanto male su chi? su di lei? continuiamo sperando su di lei se magari la tiriamo giù rimangono i cavaliere rossi o la la com non la fate più non so se il combattimento finisce però giustamente ero lei bella botta d'esperienza madonna che spreco sono pieni di noises ma io finchè non ho 255 su tutto tranne l'hack che ti dice? ah che è il massimo è classico cinana cinana il tuo dungeon cinana voi tre siete forti c'è una ragazza alla base che può aiutarti a controllare i tuoi poteri non più perché non sarà più così io e te siamo amici vero? sono sicura che anche agli altri piacerai vieni con noi ok? i tuoi occhi i tuoi occhi margilla margilla non essere triste alla fine sono diventata la tua compagno la tua compagna la tua compagna si la tua compagna non è che piccata se adesso la mangi ti pompi dirlo sembra mi fa stare bene ma ma sappic sappic relationship sottintesa nessuno soffrirà così più mai più ho deciso sono stufa di questo posto che spreco più che altro perché se la lasci lì se la mangia qualcun altro tipo quello a merda quel merdu lì? si quello stronzo a merdu che ridere comunque un attimo di serietà io so che tu idolatri Nocturne idolatri quell'altro lì per DS cazzo si chiama Soul Hackers si però francamente a me piace mille volte di più una roba così con tanti protagonisti tutti sfaccettati diversi che quel solito protagonista stronzo silente che non serve a niente con i due compagni compacchi che fai tutto il gioco da solo aspetta aspetta cioè i due compagni compacchi sono anche qua questi sono i due compagni che uno diventa cattivo e l'altro buona palese si ma nel senso no ti fai tutto il gioco da solo quegli stronzi compaiono una volta ogni venti ore dicono due cavolate se ne vanno via ho capito ho capito certo ho capito è molto più interessante così hai nei parti fa parte del tuo gruppo scusa non c'era stato un attacco alla base no allora capisco cosa vuoi dire perché no tu non ha one man band c'era in giro da solo la sensazione di essere da solo in una cazzo di waste era giusto era giusto così si si no nel senso di rottura di palle intendevo cioè questo è desolato ma è più vivo è più popolato quello sicuro però per questa scelta tu hai dei companion ma non hai i demoni o i party i demoni chi se ne frega alla fine i demoni sono pokemon quindi per scoprire dei personaggi full fleshed che almeno hanno idee e poco smt è poco smt classico quello è vero sono andati sono spariti e soprattutto potevi avere i full fleshed character sviluppati bene come in scena che avevo intensità e 4 esatto quello intendevo che erano con noi però Sielo è successo qualcosa Sara ha dato un strano allarme che eravate in pericolo Sara lo sapeva come è possibile ora dorme ma va e sapere che Gale è partito per andare nella regione del Maggi Manipura vabbè vuoi andare con lui leader Manipura cosa c'era Manipura non ti preoccupare per sera rimango io con lei e secondo me sarà la possibilità di cambiare è molto misterioso sicuramente due sono altri membri del party che giocabili il gioco non è a 3 a 5 secondo me o a 6 perché c'è quel comando deploy e poi allora vedi uno ghiaccio uno fuoco quell'altra terra e quei due stronzi ci avranno uno vento e uno ma non c'entra possiamo metterci no no c'entra c'entra c'hanno i capelli colorati edo rosso fuoco bianco ghiaccio sono fatti apposta come Power Rangers no ma è vero sono cinque cazzo di elementi in scimmegame ho capito cosa intendi ma noi abbiamo già preso gli elementi si ma gli altri te ritroverai come basic branch diciamo quei due che non abbiamo non hanno loro quindi forse mi hanno sprecato stai dicendo no comunque ci sta ma anche più di due anche più di due guarda c'è più spazio qua ma lei non che sei no secondo me o il sesto è sera che ha robe magari tipo Hama Almighty robe così cinque più uno potrebbe essere oppure Raido sarebbe troppo figo se arrivasse Raido ma no che cazzo c'è non era da nulla ma si Raido è il jolly si può investire proprio da ovvio da scuola lo giapponese del 1900 senti c'è un gattino nero io mi aspetto è lui che ti trasforma tutto si no e facciamo bene per carità non il daimi film perché non c'è proprio un cazzo ma col fatto che Raido può viaggiare tra i vari giochi lo fa più volte poi più volte in realtà no ma i cousinoi in realtà ci sono anche in persona i grandi cousinoi quindi poi questo in realtà è un po' troppo limbo strano questo non mi aspetto che sia un mondo fisico è una cosa a parte quasi allora adesso adesso noi potremmo andare al dungeon delle dei mari bella bananna giusto mani pura delle mari dei mari bel e andiamoci un giornato l'ho immagini ah lei è morta non vi facciamo entrare no ma come ah giusto perché cosa è andato ad attaccare Mick adesso vado ad ammazzare tutti quelli che sono rimasti ah giusto lui pensavo volesse occuparsi di quelli che stavano assalendo la fortezza non gail siete salvi il piano è stato un successo il risultato finale è quello capisco abbiamo fallito allora facciamo un nuovo piano piani 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 come puoi essere così la nostra compagna è morta compagna non capisco ignorola è incazzata perché la sua ragazza è stata uccisa cosa significa è incazzata la sua ragazza perché hit mi sembra un personale inseguiremo Mick non provare a formarci è bellissimo credo sia fattibile ora che la città delle nostre è accettabile vi accompagnerò anch'io eccolo eccolo qua lui secondo me zan zan perché capelli verdi poi figurati l'altro cielo fulmine beh poi si chiama gail proprio anti-sgamo anche il nome come si trasforma vaio che strambino zan ma shockwave force ripple mudo void death quick escape vabbè quindi lui vento morte ok è un trick che non avevamo sperimentato è già master di qualcosa quindi dobbiamo cambiarlo subito entra al nostro stesso livello per fortuna ok eh sì no al nostro sì vorrei capire i nomi se hanno un senso però non sono chiarissimi bio-operativi agni varna no i nomi loro surf beh sì heat vabbè heat e calore argilla della terra ah ok per quello il soffio di vento cielo perché i fulmini cascano dal cielo surf 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 chissà che sarà una giappo io ho besotto se ne ho avuto seraph più una roba angelica sì anche secondo me fammi cercare e heat e calore è perché tutti gli altri hanno un senso con l'elemento quindi ci rimarrei male se non avesse anche lui vediamo senza spoilerarmi soltanto la trattata di interazione parti i romaggi è safu anche vuol dire conosciuto come silver fox ma perché che è molto metà l'idea cosa ti l'ho detto cosa mi sono perso scusa ti l'ho detto che sembra che c'è più inicitazione di metal gear ma no la missione stealth fatta con parliamo con tutti mica il nostro del sag se no c'è poco motivo per uccidere gli altri senza motivo pronto surf credo a vero che sia ok lasciare cielo al comando ma è un bravo guagliore si era va bene va bene poi c'è il raster mi sa simpatico i dread guarda che il tiratore che gina è morto questo il tiratore nostro sconfaggiamo i solid che stanno invodendo ma i solid mi viene in mente gli unsolid di game of thrones che sono i soldati castrati gli eunuki ok si è lo sta percivendo a sera per favore non ti preoccupare e non ti preoccupare va bene si è tornati può tornare in dungeon che gioia allora c'è un muro blu ecco c'è la hunt è che quella sembra possiamo ripetere all'infinito non ho ben capito c'è un altro muro blu un muro blu ok due tre livelli no sono tre livelli bene esponenzialmente più costoso dobbiamo tirare su anche un altro angel mantra ancient god mantra edes ma mi ama mi ama ci mancava par eh no share karma eh sì che non sappiamo che fa ok niente gay senti tu sei vento riportiamo sulla morte com'è che fa ma mudo quelle cazzate lì ma già ma zanma potrebbe prendere se lui già sa già anche zanma quindi è ufficiale smettiamo di biclassare e facciamo soltanto il ramo principale di ognuno non lo so io devo dare questo 25.000 quanto costa eh però provai il suo dici ci sta ma ronagher si è appena arrivato già ci sei costando così tanti mantenimento mantenimento che gli altri grazie a dio devono ancora imparare fra un sacco di tempo voglio fare una cosa allora ah lui deve avere il franzi figo hunt random ma zanma ma zan glielo lasciamo shock via non hai boost force boost ma che fa un gesto ma prende mp dopo che fai hunt quindi lui specializzato anche in caccia volendo evita la morte mi sembra veramente una abilità allora zanma ma zanma mudo mudo io lo toglierei vabbè come ama dici troppo forse forse sono da attivare 3 mp 5 mp e quello passivo invece c'è qualcosa a destra force boost ninja ok click escape cosa fa oh 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 grandissimo figo la tua abilità in questo gioco ecco la cosa il fatto che non siano passive quelle cose non mi piace molto eh oh rendono attivabili ma su tutto il gruppo frano ah lei può mettere altre due ottimo earth boost che si fa più male cure charm ah tra che cura più roba charm sleep panic va bene va bene dai madonna quanto mi costate ma chi questa squadra di giovani talenti di cacciatori di pokemon demoni quanto mi costa ad a hand and more hand and more allora adesso ragazzi mangerò tutti i demoni che mi fa dimmi dove andare stavo cantando la canzone di dds digital devis saga questa canzone facciamo andare di qua su loro che mangeranno tutti i demoni girando per il mondo lanciando la loro sfera oh nuovi demoni bastardi mi calpi eh si ops era il fuoco a calcio ma dai cosa scappi oh brutta cosa hai visto chi non è nel party non prende serenze un membro di solid eh vabbè ok quindi sappiamo dove andare no dove ci sono i cosi blu che mare no ah per farla maggiore protagonista si si ma per essere sicuro lui aveva debolezza ma dai turdo mi calcio si è spaventato proprio come un pezzettino di cacca mi sta papà la visuale è così no dove devo andare no non si capisce vabbè si vabbè salva salva di attraversando i cancelli quel pavido codardo ok sfigati ma questo è cieco come fa ma non è cieco è daredevil è daredevil questi che cazzo vogliono dove cazzo è Mick si stanno caccando sotto stiamo caccando sotto non ci attaccano è un diversivo un diversivo? che intendi? siamo in inferiorità numerica sera e cielo bomba ripensaci coglione starda ma gio gio time capisco questa era una trappola ma va ora riblastiamolo di nuovo che cosa aveva debolezza no si 4 ma se ne figlia allora come avevamo fatto prima si bafometto vabbè ok quindi come abbiamo fatto prima non che volessimo expellare avevamo finito il fatto prima con i void cose che non abbiamo si ma cos'è bafometto ghiaccio deve voler no no e proviamoli tutti secondo me niente ah no forse ah ma eh ma expell si protette ma porco cazzo e di shield cominciamo a divertirci il camembert non è pure la terra a mudo mazzo invece che cazzo quindi ah ma no è mudo si che vita infelice per le forze del bene qui son cazzo e cominciano a cazzo anche perché se lui come al solito non è debole niente questi nemmeno dio santo non è che non si andevoli a fuoco prova a scambiarli con ciccio pasticcio beh posso dare a morte ah adesso non cogliamo non puoi oh si preoccupato della terra con quell'affare a nulla terra non è che la terra lo sblocca da quella posizione di guardia non lo so che non farà nulla terra ma raggi un nuovo combo scoperto va bene dubito che aggi funzioni su metto su buff metto beh tanto abbiamo un round che ci abbiamo da perdere ok basta quindi non ha debolezza sento un po' di ostilità non così in fretta dovete mangiare le vostre verdure prima di poter arrivare al dessert cosa stai dicendo testa di minita apri quelle aria che ti ammazza di botte che è qua a terra si secondo me lui ha qualche debolezza a terra ma che merda mudo scopo e comunque non ce la fa comunque fanno solo mudo eh sì sembrava solo quello ah beh ci sono altre robe magari di fuoco le casta quando gli entro però se cazzo mi ha paura di essere espulso espellato e da terra ma paura ma io non si proteggono sempre due cose perché lo farebbero se no perché si vede che con ama o con qualche magia strana possiamo prima andare via i baffumetti però aspetta questa c'è la barriera una merda deve essere quindi non si può riportare in vita mentre fuori dal combattimento ah beh si così sicuramente non non ci uccide no più che altro sicuramente perde il turno shield voilà però prende le mazzate o quella che è in difesa ah no è il baffumetto ok e si c'è proprio paura di essere espellato con ama o o con qualcos'altro però si questo prende questa cosa questa cosa della terra che non capisco anche non so cosa facesse ma che cura meglio così cosa fa non capisco è lui ha qualche cosa con la terra quando si protegge così è l'unica continua a difendersi e ma quindi il primo turno che magari evoca i nemici e quindi non può castare quella roba lì castiamogli qualcosa di terra vediamo come reagisce non lo so è di come una cavolata magari no il fatto è che non si troppa tanto godo pam fermato che non ho non bellissima scelta bravo bravo ora tocca a me immagine e il fatto è che lui adesso farà di nuovo l'attacco di me vabbè che roba ok va benone si va molto bene in realtà picchiano in faccia lei cura tutti direi e lui bo pesta una roba così tanto la debolezza è quello secondo me come prima ce l'aveva prima crittone minchia critta ma come critta come in 59 con attacco rage con attacco ma come in un po' vabbè finché fai bene quello va bene cazzo va benone così 59 con bufola 29 ok no direi che no è 16 giorni per ammazzare zanma magari no no è meglio prendere la schiaffa in faccia però a sto punto potrebbe la pena rimettere nel party hit invece di che lui sia più forte e però lei che cura ci serve? no no al posto di cose ah del cicciopastiglio ok credo che sia più forte vediamo quanto li toglie 64 poco più forte ok il gioco ci sta facendo capire che mo sono cazzi cioè ci sta dando più opzioni però di no anche se perciò gestire meglio poi le due parti certo ali fuori dentro e anche le build dei gondri sono importantissime quando arriva anche a cielo ti voglio che sarà comunque uno in più in tutti i sensi va è già rosso ok sta per morire se surf lo ferma culetto rossino se surf lo ferma e non gli lo fa divorare direi tu dentro e devi schiaffa sì sì minchia che sborone ormai è pure abbastanza però un bel po' sì non tutto però la metà più o meno oh quella giusta il gay non ha preso niente però gay un po' di combattimento se l'è fatta non è giusto per quello ti dico forse dovremmo decidere a un certo punto chi portare su in generale in generale in alternale dove sta andando no anche che cazzo succede siete in ritardo quella stupida ragazza è nelle mani cosa mi sai di sera c'è una ragazza alla base che può aiutare a controllare questo potere ah sentito quello che avevano detto vieni con noi a incontrare sera ti prego tu figli di se non passa avanti a noi se sanno quasi tanto vogliono neutralizzarli utilizzando il potere di sera come fai a saperlo non dirmi che è logico è solo una ragazza in grado di cantare come usate in trascinare non capisco la logica richiede una risposta più efficace no non è giusto mangialo mangialo no mi nutrirò della tua carne un giorno donna ma perché non l'ammazzata potrebbe essere troppo tardi ma deve tornare alla base ma perché non l'ammazzata ma devono sbloccare i muri blu maledizione chiudete il cancello non lasciateli scappare eh sei accontentato e hit non è nel party è perché è andato hit hit nella cazzi non è scappato ma che senso ha perché è andato è corso per andare alla base non è lì con loro quindi è riuscito a uscire per andare a salvare sera quindi adesso siamo obbligati tra loro tre ok ecco perché anche lo swap dei personaggi allora però qui dove cazzo siamo non abbiamo molta scelta poccalo però vuol dire che i mic no è nemmeno qua eh no sarà la base a cercare di prendere sera porta chiusa porta chiusa ah no ok ottimo oh super save quell'oggetto verde è apparso come la luce caduta dal cielo sembra curare qualsiasi cosa che venga in contatto con esso si se paghi guarda ah no kretis non così free sei contento e free cazzo si fa anche rima questi save point controllati da una minoranza di cui non posso fare il nome che è molto interessata ai soldi scusate un attimo eh scusate voglio fare una prova eh ma non funzionerà non c'è e invece scusa possiamo andare alla base ma fanculo che senso ha vediamo non lasciateli fuggire ah ecco bastardi che stronzo eh ma adesso siamo bloccati bloccati qua bene meno male che salvata di là madonna ma scusa e quindi ah no si è aperta questa porta ah ok ok ah c'è un forse una zona di fuga alternativa si 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 e qui eravamo dove eravamo prima ah ok no ero già mi sembrava questo bug ma no non lo fanno è troppo fiducioso di questa popolazione allora direi che a 59 minuti di episodio andiamo a salvare ma come tu un neggio oh devo riferirlo ah lo so non ci ho pensato ho un fisico che risponde ah bravo la valchieri e non mi ricordavo ti ricordi le basi ma non tutti no i barchieri in effetti sono dei demonici meno e meno tanto non ha disavorebolezze respone gli attacchi col cotro attacco meno tanto e fu dissolta in thin air e cazza al vento abbiamo livellato bravo la scelta giusta tanto adesso poi ci porta a 15 la luck maravilla lui vuole andare a salvare per chiudere l'episodio eh non puoi non ti è concesso no vuoi dare dal toro che pari beh congelale eh ma questo che funziona eh grazie ci sassi no ah durò un turno ok si il gale è proprio il dai dai allora loro deboli a manziane no niente dai occo mi sa che siamo fatti gli antifuoco l'altra volta però non c'è possibile non possiamo sapere ma l'ideale sarebbe avere tutti con tutto eh grazie lì non c'è un portale da aprire lì abbiamo già aperto e la porta col save lì c'è l'oggetto va bene sarebbe stato molto bello lasciarsi con una sola porta a direzione da prendere sarebbe stato molto bello se ti ritrasportarci e aversi rotto il gioco qua è il punto definitivo di farming c'è una roba gratis che ti ricura anche anche quando ci sono queste robe qui potresti farmare gli anni quindi al prossimo episodio saremo di cinquantesimo livello tutti è giusto soprattutto quelli che non sono le parti ah cazzo è vero va bene signori un'ora di episodio l'abbiamo fatta abbiamo sconfitto chi deve non sconfiggere mi sta sulle palle che cosa non se lo sono mangiato non crede adesso perché sarà un terzo combattimento sicuro prima o poi io spero che sia il cattivo stronzo che muore male per una cosa sfigata a caso un motivo a vermi lingua quelle cose lì sì sì però quello infido che capita sta cercando di fare qualcosa gli crolla addosso da un palazzo gli esplodono una bomba in mare quindi lol questo è il non episodio di Scimica Vitenza e Digital Davies Saga il prossimo episodio sarà il giro di Boa finalmente è bello perché il gioco ha un ritmo serrato cioè non c'è mai un momento fermo siamo sempre in dungeon quindi un po' bene un po' così per ora che c'è sempre dove andare tendenzialmente anche perché sono sei dungeon in croce sono sei location da selezionare dal no no però si sai non è tipo la no tu dici ok va in giro certo un nuovo dungeon sarà il posto giusto non do cazzo vado è tutto ristrutto sì sì è più story driven per quello dico nel senso qui hai le cose a selezionare nella mappa non è un aimless wandering around the world esatto che perdi un sacco di tempo qui selezioni non si sblocca nulla pazienza seleziona un altro quindi è più veloce bene bene sono contento signori ci vediamo a questo punto tra una settimana forse e vi diamo appuntamento alla prossima alla prossima ciao